Il Papiro Volley non si ferma più, infila la settima vittoria in otto partite e vola in testa al girone B di Serie C, grazie anche allo scivolone della palla Volo Augusta contro l'Aquila Bronte. I ragazzi di Tani Frenzi Russo adesso comandano il campionato con due punti di vantaggio sui siracusani una partita in meno, riproponendo con forza il loro ruolo di candidati al salto di categoria. Lombardo e compagni hanno battuto 3-1 in trasferta ai Diavoli Rossi di Nicosia, con le grandi prestazioni di Chiesa e Sanalitro, autori rispettivamente di 17 e 16 punti. 19-25, 19-25, 26-24 e 16-25 i parziali di gara. Il Papiro adesso è atteso sabato prossimo, ore 18-30, all'ultima gara dell'anno con l'Aquila Bronte, squadra in grande ascesa e al momento terza forza del campionato a quota 16, in compagnia di Gela e a Gira. Al sesto posto, con un solo punto in meno, si trova invece una New Image che attraversa un momento di leggera difficoltà. I ragazzi guidati da Luca Palma, aggravati da molte assenze, sono giunti al secondo K.O. di fila dopo la sconfitta casalinga rimediata domenica contro la Virtus Floridia. 3-1 il punteggio finale con i parziali di 19-25, 23-25, 25-17 e 21-25, con Giar che chiuderà la sua annata agonistica sabato prossimo alle 19 contro i Diavoli Rossi di Nicosia. Grazie a tutti.